Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele con Nike, vi do il benvenuto all'interno del mio canale. Oggi, come avrete detto dal titolo, andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli animali che mi sono stati regalati, che mi sono regalato e che insomma, nella fine dello scorso video, avete visto quel fermo immagine che rappresentava o insomma vi mostrava tutti gli animali che sono andato a prendere. Ebbene, cominciamo con i regali che mi sono fatto. I tre componenti nuovi della mia grande famiglia sono questi, se vedete due femmine, che sono le due Gekke Gargoyle, che prendono nome di Gekke Gargoyle, ma in verità il vero nome è Racco Dactylus Auriculatus, vi lascerò il nome qua sotto così riuscite a capirlo perché magari lo pronuncio male. E in questo caso potete vederne due diverse. Una orange, che è quella che ho in mano, quindi orange stripe, molto bella, una femmina adulta che ho voluto acquistare insomma assieme all'altra femmina e a un maschietto che tra poco vedrete. Mentre quella che fino a poco fa vedevate sulla mia spalla e adesso è sulla mia schiena è una brown, quindi non ha le righe arancioni, o meglio non sono molto presenti, quindi va a prendere questo altro nome. Specifico subito che è un Gekke di abitudini simili a quelle del Gekke Ciliatus. Non conosco molto bene i Morph, mi sto informando in questi giorni che passano. Prima di acquistare logicamente, come sapete, ho avuto un po' di Gekke Ciliatus, ne ho ancora e insomma ecco, mi sono informato davvero bene prima di poterli prendere. Come ripeto, abitudini molto simili ai Ciliatus. Ora vi faccio vedere nel dettaglio le varie femmine con un bello zoom perché in questo momento gestirne due mi è difficile perché non sono molto abituate a essere maneggiate e quindi appunto ve li faccio vedere in un secondo momento così riuscite a vederli tutti bene nel dettaglio. Partiamo dalla seconda, quella un po' più irrequieta. Questa è una brown stripe, molto molto bella, come potete vedere occhi molto particolari, una conformazione del viso spettacolare. Ecco, ci sta guardando in questo momento nella videocamera e a differenza delle altre, adesso si è staccata dalla mia manina, vieni ciccia, brava. A differenza delle altre, o meglio dell'altra e dell'altro maschio, non ha delle righe sulla schiena, cosa che invece nella mia altra mano vedete, ok? Così potete notare la differenza di una e dell'altra. Passando dunque alla prima, quella un pochino più maneggiabile, è una orange stripe, molto bella, una femmina come ripeto adulta, che ho voluto insomma prendere come regalo personale, 22 anni, e dai, ci stavano tutte e due. Adesso vi faccio vedere anche il maschietto, ciccia, guardaci. Come vedete è una femmina già abituata al contatto, quindi un po' meglio rispetto all'altra, la sto abituando pian pianino, con molta delicatezza, molta calma, un po' di tempo per volte, vedrete che si abituerà anche lei e apparirà in altri video e speriamo che, incrocio le dita, l'anno prossimo ci darà qualche piccolino auricolatus. Ripongo un attimo le due femmine. Vai ciccia, bravissimo. Femmina una e femmina due. In questo momento loro, come vedete, stanno nella teca assieme, perché sono state abituate così, dagli scorsi ballevatori, e quindi ecco, le lascerò sempre assieme e loro staranno per tutta la loro vita, spero, nel mio allevamento e nel dettaglio assieme in una teca. Logicamente più grande di questa, al momento sono in una sorta di quarantena per vedere che tutto vada bene e che non possano passare malattie a altri maschi piuttosto che altre femmine che vedrete in un futuro. Ed eccomi qua con il maschietto. Lo vedete già in lontananza, spero che vi faccia un po' di zoom anche il telefono. Lui è un red stripe spettacolare. Mi sono innamorato subito di lui in verità e le due femmine l'ho vista in un secondo momento, anche se sul tavolo erano assieme, ma lui mi ha proprio catturato. Lo volevo, in verità, per il mio compleanno. Volevo regalarmene uno maschio, per iniziare, perché, come sapete, hanno un costo abbastanza importante. E, niente, invece, quando poi le ho viste tutte e tre, siamo riusciti ad andare in accordo col prezzo. Una persona molto, molto brava. E, niente, alla fine me li sono portati a casa tutti e tre. Lui è il mio maschietto, che entrerà in riproduzione anche lui l'anno prossimo e verrà copiato con le due femmine che avete visto poco fa. Molto bellino, molto tranquillo, molto più umaneggiabile. Non so perché, è proprio il suo carattere. È molto più abituato ad essere maneggiato, si fa coccolare, non ti si arrampica nei capelli ogni tre per due. È molto bravo, tranquillo, e sicuramente mi darà delle belle soddisfazioni, o spero, nei periodi a venire. Vieni, ciccio, salta. Bravissimo. Come con le altre due, adesso vi faccio un piccolo zoom, così potete osservarlo meglio, nelle sue piccole caratteristiche. E, insomma, merita essere visto da vicino. Ed eccolo nella sua interezza, bellezza anche, devo dire. Molto bello, un maschio che, insomma, come ripeto, mi ha catturato subito. Lui è un red stripe, come vedete ha un rosso un po' più marcato, è anche un po' più bello e ben visibile. Come vedete, ripeto, molto bravo, è già abituato un pochino ad essere maneggiato. Non so se gli allevatori l'hanno abituato, però io mi sono trovato subito bene con lui, un bel feeling, una bella sintonia. Tanto che, come vedete, ma anche con le altre due femmine, si può, insomma, posso carezzarli, posso passare tanto tempo con loro e loro interagiscono davvero tanto, tanto, tanto con me. Verità, lui, da quando l'ho preso, ogni volta che mi vede, arriva la teca e io lo tiro fuori, me lo metto sulla spalla come pappagallo e mentre vado in giro lo coccolo e lui non si muove mai dalla mia spalla. Non salta in giro, non fa acrobazie, non distrugge niente. Molto bello, come ripeto, e, insomma, mi sono tolto questi tre sfizi, in verità, invece che uno, ho fatto il trio. Adesso andiamo avanti e vi mostro i nuovi arrivati. Passiamo a questo punto a un insieme di animali che mi sono stati regalati dalla mia famiglia. Volevo provare qualcosina di nuovo, qualche esemplare un po' più particolare ma non riguardante i rettili, bensì il mondo di insetti perché sono molto particolari e molto belli. Quella che ho in mano in questo momento è un amante di orchidea. Mi sono innamorato, ma devo dire, quasi subito di lei. Infatti volevo prendere solamente questo esemplare ma poi mi sono fatto prendere la mano come al solito, come ho fatto con i gargoyle e mi sono sbizzarrito a prenderne altri. Vi farò vedere in sovrimpressione in questo momento, qua sopra, la foto di quando l'ho presa all'inizio perché appena presa in verità era uno stadio precedente quindi era un pochino più a bacello e invece adesso ho fatto la muta proprio l'altro giorno e si è sviluppata in modo diverso. Ve la faccio vedere lo stesso perché è davvero molto bella e molto particolare. Manca ancora una muta penso per l'adulto non sono esperto per niente mi sto facendo istruire da una persona che insomma se niente ne vero tanto mi ha dedicato il suo tempo mi ha dato lui queste mantidi e a breve penso e spero che riusciremo a fare dei video lui non si presenterà mai potrò citarlo nei prossimi video ma non lo vedrete di persona mi sta insegnando tutto quello che sa quindi sono tipo una spugna che assorbe tutte le sue conoscenze e poi ho avuto il via libera per poterle divulgare e quindi condividerle anche con voi intanto vi mostro lei molto bella e così la potete vedere da vicino perdonata la mia mano un po' distrutta ma questa stanza mi sta distruggendo letteralmente le mani ho fatto tutto l'impianto elettrico con mio padre e insomma è stata un po' lunga detto questo presentiamo la mantide mantide orchidea molto bella molto particolare come vedete colorazioni insomma come si può dire se non particolare non so dirvi unico di quest'animale mi piace davvero tantissimo la potete vedere anche di fronte molto bella e un esemplare unico ragazzi non vorrei sbagliarmi ma il nome di questa mantide è Imenopus coronatus vi metto poi sotto il nome perché non vorrei dire una cavolata le sto imparando sono difficili i nomi ma li imparerò anch'io adesso vi mostro anche tutte le altre perché non prese ancora i più particolari ma alcune forse non riuscirò neanche a farvela vedere così bensì vedrete delle foto a questo punto purtroppo vorrei maneggiarla ma è piccolina piccolina quindi dovrò farvela vedere in un secondo momento spero di riuscire a maneggiarla quindi non lo so se vedrete o meno la ripresa però ecco questa è la clinodoptera l'estoi o una mantide che possiamo definire spinosa molto bella molto particolare ancora più bella secondo me della mantide orchidea anche se come ripeto innamorato folle di quell'animale però questa è davvero molto molto particolare adesso vi faccio un primo piano vediamo se riesco come ho fatto prima se no nel caso vi metterò delle foto di questo esemplare ho preso la coppia sperando di poterli riprodurre in un futuro vi sono dimenticato di spiegarvi che la mantide ha questa particolarità ossia vive un anno questa mantide appunto all'incirca in una settimana 15 giorni diventerà riproduttiva quelle che vedete adesso sono non possiamo dirne anidi perché sono in uno stadio si dice L3 quindi hanno fatto tre mute e spero di non sbagliarmi con i termini ragazzi precipito sempre questo sto imparando anch'io datemi tempo perché ho allevato sì degli insetti in passato dei fasmidi ma con questi è un po' diverso come tutte le cose esperienza nuova e si impara impariamo a vicenda e tutti assieme ragazzi ero convintissimo di non riuscire a maneggiarla invece si è fatta prendere e maneggiare vediamo se riesco a farvela vedere meglio ok come vedete mantide spinosa perché come vedete nella parte posteriore appunto la sua codina che poi si estenderà e diventerà come quella della mantide orchidea quindi distesa e lunga ha quelli piccoli spuntoni sono animali totalmente innocui non possono farvi niente e vi metterò in un secondo momento la sua foto da adulta così capite un po' come diventa anche questa mi è stata regalata quindi ringrazio ancora tutte quante le persone che hanno partecipato al regalo e tutta la mia famiglia passiamo adesso all'ultima mantide o meglio l'ultimo gruppo di mantidi perché queste sono tutte quante adulte e ne ho prese due femmine e un maschio e appunto non ve le presento tutte assieme perché è un po' più delicato maneggiarle sono molto belle da vedere ma insomma devo prenderci la mano anch'io detto questo questa è una mantide un po' più comune ne avete viste sicuramente in giro in natura tantissime simili a lei ma non sono loro quelle che trovate sono le mantide comuni tra l'altro ne ho salvata una quindi a breve vedrete anche quella mantide lì non in questo video ma in un video successivo è una mantide un po' più grande molto bella mi ha attratto subito nel senso che mi ha fatto un'offerta è stato gentile ha visto insomma la mia passione mi ha detto siccome hai tanta passione di queste tre ti faccio un prezzo davvero specialissimo però ecco tienimele bene perché sono adulte non dureranno ancora tanto quindi non so per quanto tempo le vedrete speriamo di riuscire a riprodurle perché ho anche un maschietto e riproducendole appunto avremo delle neanidi e quindi una colonia intera di queste piccoline qua un po' più particolari nel senso che sono già adulte quindi come vi stavo dicendo prima queste mantidi non vivranno ancora a lungo avranno ancora tre mesi quattro mesi di vita speriamo il più tempo possibile però appunto hanno già fatto l'ultima muta quindi sono finite dovranno entrare in riproduzione a breve nelle prossime settimane tempo di farle ambientare un po' di vedere come si fa e imparare perché sono molto ignorante vieni brava sono molto ignorante e devo istruirmi anch'io quindi ecco a breve le riprodurrò è molto difficile molto particolare però se riusciamo a capire come si fa se riesco a capirlo farò appunto un video dedicato che sarà molto divertente perché voi dovete sapere che come penso tutti sappiate l'amantide uccide il partner quindi andando a mangiarsi il maschio per lo sforzo eccetera eccetera però c'è una tecnica c'è un metodo che sto imparando che dovrebbe incrociare le dita tutelare il mio povero maschietto che spero muoia con me e non per cause naturali come questa femmina adesso vi faccio un bello zoom e vi faccio vedere l'amantide un po' più da vicino eccola qui vista un po' da vicino come vedete il simbolo di salute e di sazietà dell'animale si vede da questa gobba posteriore quando quella sacca chiamiamola così brutalmente è gonfia è rigonfia vuol dire che è sazia e come vedrete non mangerà adesso vi faccio uno zoom appena riesco a riprenderla dalle meno secondo eccoci tornati il suo nome è Ierodula patellifera particolare perché è un'amantide gigante ok raggiunge le dimensioni nettamente più rosse rispetto alle altre che avete visto fino ad ora come ripeto nessuno era adulta e quindi ecco raggiunge le dimensioni un pochino più importanti un'amantide un po' più classica molto carina e l'ho presa per provare perché è molto resistente e dovrei riuscire a fare pratica con questa prima di passare ad acquistare magari un maschio per la mia amantide fiore oltre a Geki come avete visto prima gli auricolatus nonché Gekko Cargoyle oltre alle mantidi mi sono preso anche tre colonie di isapodi la mia colonia di montenegro era un po' debole allora ne ho presi ancora 15 una colonia piccolina da 15 esemplare di panda king che sono i cubaris che avete già visto in un video precedente se no magari vi lascio una foto qui e una foto qua una a destra una a sinistra e infine mi sono preso un'altra colonietta nuova o meglio una colonia che ho sempre voluto prendermi in passato con insomma il socio che avevo quando avevo appunto gli isapodi e è una colonia piccola di bolivari provo intanto a avvicinarvi qualche esemplarino sperando che non se ne vadano via ok mi è andata bene ci è andata bene anzi questi qua sono i bolivari abbastanza grandi come isapodi 15 esemplari diventano questo giallo fluo bianco molto bello è il primo animale che ho allevato ancora prima dei Geki grazie a quel ragazzo che vi raccontavo in un video bene ragazzi il video di presentazione di tutti gli animali che mi sono stati regalati che mi sono regalato e che mi piacevano finisce qui io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti fin qui in fondo se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento un like condividetelo che mi aiuta tantissimo mi fa davvero molto piacere il video dei 300 iscritti è volato è andata benissimo moltissimi commenti positivi tante persone che poi mi hanno mandato gli auguri il 26 settembre grazie mille a tutti di nuovo anche molti di voi tra l'altro iscritti quindi persone che possiamo dire io non conosca minimamente che loro non conoscono me ma che grazie ai video sono venute a conoscenza di tutto il mio mondo quindi grazie 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 a tutti se volete spiare altri video come sempre sul canale ci sono se volete lasciare un like un commento sempre ben accetto tutti i commenti positivi che mi arrivano mi danno tantissima carica quindi arriveranno altri animali altre presentazioni tipo questi tre niente noi ci vediamo un prossimo video ciao ragazzi rimanete sempre sintonizzati che molti contenuti arrivano stanno arrivando e li sto finendo di formulare quindi ciao a tutti grazie ancora